I carabinieri della compagnia di Orubino hanno eseguito ieri sera un'ordinanza di custodia cadelare in carcere nei confronti di una donna di origine est-europea di 24 anni facente parte di un sodalizio criminale dedito alle rapine d'anziani di orologi di valore. Le indagini sono iniziate a luglio scorso quando un anziano 63enne si è presentato presso una nostra stazione dei carabinieri denunciando di aver subito una rapina. Quest'ultima infatti era stato avvicinato da due donne che dopo avergli fatto degli avanzi erano riuscite a distrarlo, bloccarlo e malmenarlo violentemente. Una volta caduta a terra all'uomo erano stati sottratti 1.500 euro in contante appena prelevati e un Rolex d'oro che teneva al proprio polso. L'analisi delle denunce ricevute anche da altri reparti dell'arma, le individuazioni fotografiche, lo sviluppo dei tabulati telefonici hanno permesso di individuare le autovetture a noleggio, appositamente prese a noleggio dalle donne per sviare le indagini, i percorsi effettuati, le strutture ricettive in cui trovavano base logistica e anche identificare altri componenti della batteria. Grazie. Grazie.